E' tornato a Napoli dopo quasi 20 anni l'incontro con i gentlemen d'Italia, organizzato per l'occasione al circolo del tennis dall'ippodromi partenopei da Federnat, la federazione nazionale amatori trotto. Durante la manifestazione è giunta la 33esima edizione, consegnati anche i premi amici dell'Ippica, rivolti a personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura e della politica, che si sono distinti per stile, equilibrio e amore per la natura. Premiato l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. Io credo che questo sia un segno molto forte delle eccellenze napoletane, che però, a constatazione che sto facendo da qualche anno a questa parte, tutte molto sensibili al sociale. Consegnati un riconoscimento come socio d'onore 2014 a Cesare Attolini, patron del brand che ha vestito il film, vincitore dell'Oscar La Grande Bellezza, e un contributo di 5.000 euro all'Unitalsi, ritirato dal presidente della sezione di Napoli Renato Carraturo, consegnato dal presidente dei Gentleman Cesare Meli. Consegnati anche riconoscimenti sportivi, fra i quali il frustino d'oro a Lorenzo Alessi e al campione europeo Gentleman Mauro Biasuzzi. Una serata tra sport e solidarietà, come conferma il presidente delle podromi partenopei Pierluigi D'Angelo. Questa serata è proprio una serata così, dedicata alla solidarietà, con una forte presenza imprenditoriale del mondo dell'Ippica, con una forte connotazione imprenditoriale da parte del nostro gruppo, con un grandissimo amore per il cavallo, per la natura, per le green economy che l'ippodromo di Agnano rappresenta e per quanto l'Ippica italiano rappresenta in Italia, nel mondo, in Europa. E questa sera si torna in pista da Agnano, con le corse al trotto, il Gran Premio Federnat e la finale Targa d'Oro Gentleman 2014. Super Tris, gare di alto livello, come conferma Luca D'Angelo. Ci sono tre batterie di ottimo livello, cavalli che hanno partecipato anche al Gran Premio Lotteria, quindi dal punto di vista tecnico una corsa sicuramente interessante e come sempre sarà anche una corsa molto combattuta.